Sono al punto quasi di partenza, sono allo start perché è già stato finanziato, c'è già il finanziamento di 800.000 euro e quindi si pensa che entro l'estate possa venire restaurato. Si parla ancora al futuro per il restauro conservativo di Ponte Buriano, il ponte sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci. I finanziamenti sono stati nuovamente stanziati dalla Regione Toscana circa 700.000 euro ma il progetto è ancora sulla carta. Porterà ad un restauro conservativo del ponte stesso come struttura di comunicazione perché è l'unico punto che ancora regge il carico pesante. Il prossimo 13 di aprile ci sarà l'incontro definitivo presso l'autorità di ambito di Bacino dell'Arno e poi potrebbe essere pubblicata la gara d'appalto. Il via e i lavori entro l'estate, intanto il ponte mostra i segni del tempo. Quelli purtroppo sono cantieri perché se cominciano a dimostrare le grinze della vecchiaia, c'erano timpani che stavano cedendo, quindi erano fuoriuscite le pietre e altre stavano, ovviamente le vibrazioni stavano riuscendo, quindi è stato tamponato provvisoriamente fino all'inizio del restauro questo tipo di problema. Insomma il ponte comincia a soffrire? Il ponte che soffre ormai da un po' di tempo e noi non a caso vent'anni fa cominciamo a ricercare firme di un'altra popolazione proprio per richiedere un restauro conservativo. Ai tempi sono quelli che sono, quindi noi siamo qui da attendere.